Ah, di nuovo la guida! Quanti ricordi? Mi sembra ieri. Concorrenti preparatissimi. Modugno! Cosa? Fuori classe del karaoke. Si ricordo, ricordo, ricordo! Ospiti sobri. Ragazzi, sta per iniziare la seconda stagione di Singing in the Car, che sarà ancora più divertente. Siete pronti a mettere in moto la voce? Io vi aspetto qui. Singing in the Car, da lunedì 23 gennaio alle 20.30 in Prima Visione su TV8.